Musica Ciao a tutti amici di Nexus Lab Sono Alessandro e vi presento la nostra video prova di un gioco attesissimo per Android Max Payne Un porting del gioco per PC e successivamente per console del 2001 se non mi sbaglio Un titolo che ha segnato il passaggio dagli FPS diciamo classici a quelli con effetti di gameplay piuttosto marcati Stiamo parlando più che altro del Ballet Time Questo effetto che adesso vi andrò a mostrare Apriamo subito il gioco e vi lascio un attimo alla intro Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci qua Questo è il nuovo menu di Max Payne per la versione mobile Troviamo anche un richiamo all'ultimo gioco uscito per console PC Max Payne 3 Se andiamo a memoria vi ricorderete che il menu vecchio era più o meno uguale Troviamo in più i link ai social network, al Rockstar Club, Social Club scusate E in più un comodo tutorial che adesso vi andrò ad illustrare Che praticamente ci descrive tutto il gameplay del gioco Infatti in questa videoprova non potremo mostrarvi interamente il gioco Un gioco piuttosto lungo Ci vorranno dalle 6 alle 7 ore andando abbastanza filati per finirlo Inoltre se si vuole affrontare il gioco a un livello di sfida più alto Con i controlli touch la durata del gioco può anche addoppiare Tutorial Il gioco è disponibile anche per quasi tutti i tablet Android Ed è possibile anche giocarlo con dei gamepad compatibili Noi abbiamo un gamepad bluetooth compatibile con l'Asus Transformer Prime E l'abbiamo giocato in maniera perfetta Allora noi abbiamo l'impostazione classica dei pulsanti Ovvero abbiamo i due stick analogici virtuali Uno a sinistra per il movimento Uno a destra per la visuale Il tasto per sparare Come potete vedere abbiamo il puntino di mira piuttosto piccolino al centro dello schermo Abbiamo inoltre il tasto per saltare O per effettuare schivate o scivolate In alto a sinistra abbiamo l'icona del nostro mino Che se vedremo diminuire in colorazione di questa tinta verdina Vorrà dire che stiamo perdendo vita Mentre la crescidra ci indica il livello della crescidra Ci indica il quantitativo ancora di bullet time Di livello di bullet time a nostra disposizione Andiamo a rispondere dal telefono Andiamo avanti nel nostro tutorial Come potete vedere la fluidità del gioco è estrema Io l'ho finito da poco A livello normale Il primo livello sbloccabile del gioco E non ho riscontrato neanche un impuntamento Neanche nelle scene più concitate Rispetto a GTA 3 Sempre di Rockstar Il lavoro è stato svolto in maniera migliore Forse anche dovuto ad una quantità di nemici E di azione a schermo di sicuro inferiore Allora come potete vedere Io in questo momento ho fatto il bullet time Ovvero questa scena rallentata Che mi consente di effettuare Un'azione appunto in slow motion Consentendomi di colpire i nemici Schivare a una velocità maggiore Per esempio Mi butto a sinistra Metto il bullet time Posso mirare tranquillamente e sparare Andiamo avanti Per cambiare arma In alto a destra Come in quasi tutti i giochi per android Basta scorrere il dito Sul nome dell'arma Per cambiarla Le munizioni non sono infinite Come neanche i medikit La vita non si rigenera Come era nei giochi Prima del 2004 Praticamente Prima della... Forse ancora prima Quando è nato il primo Halo Adesso In questo gioco Praticamente Voi dovrete curarvi Con dei medikit Con delle pastiglie medicinali Per ripristinare la vita Altrimenti Andrete in game over Possiamo usare il bullet time Anche da fermo Per ralentare l'azione Guardarci Anche solo Intorno Facendo attenzione A Non usarne troppo Perché comunque è limitato Questo si caricherà Uccidendo e colpendo I nemici Proviamo a superare Questo ostacolo Tutorial che E' un'aggiunta Rispetto all'altra versione C'era un piccolo tutorial Ma era limitato Per il salvataggio rapido Ottima aggiunta In questo titolo Ci basterà schiacciare Velocemente I tre pulsanti Di sistema Del Galaxy Nexus E faremo Una partita E salveremo la partita Nel caso di schermate Di game over Se cliccheremo Su questo pulsante Si caricherà L'ultimo salvataggio Registrato Allora Andiamo a premere Il distributore automatico Di nemici Che ci consente Di entrare in sfida Con questa difficoltà E con queste impostazioni Noi abbiamo anche Impostato di base Un agganciamento Automatico Del nemico Con i controlli touch Comunque senza Questo agganciamento Automatico Faremo molta fatica Come potete vedere In alcune situazioni Si presenta anche Una specie di Scena Cinematografica Che ci permette di Sottolineare La dipartita di un nemico Vi faccio vedere Ancora Un piccolo scontro Max Payne Max Payne è anche Famoso Stato famoso Per la sua trama Una trama abbastanza adulta Forse un po' Un po' veloce All'inizio Infatti si Si viene catapoltati Nella vita Del nostro poliziotto Ma Rapidamente Questa trama Viene Viene ramificarsi In questa storia Di droga Vendetta Soprattutto Che non ha niente A che vedere Con la pellicola Cinematografica Che qualcuno di voi Magari avrà potuto Vedere al cinema Un po' di tempo fa Per curarsi Basterà Che noi Andiamo A cliccare Sull'icona Di Dell'umino In alto A sinistra Premendo pausa Andiamo nel menu Generale Dove è possibile Salvare Caricare Andare nelle opzioni Dove troviamo Alcune impostazioni Soprattutto A livello Dei comandi Che dire Un ottimo gioco Un ottimo porting Che merita Di essere giocato Sia con i controlli Touch Che consiglio Su smartphone Sia con gamepad Su tablet Si comporta benissimo Sia con Noi l'abbiamo provato Su Galaxy Nexus Transformer Prime E Galaxy S2 Non abbiamo riscontrato Mai un lag Veramente Codice Codice del gioco Ho sviluppato Benissimo Un gioco Che per 2 euro Quasi 3 euro Consiglio vivamente A tutti Soprattutto A chi non avesse Potuto giocare Il titolo originale Un saluto Da Alessandro Per Nexus Sia con i controlli Sia con i controlli Sia con i controlli Sia con i controlli Grazie a tutti.